l'occasione di avere qui con noi il campione italiano di triathlon rinaldi ci dà l'opportunità l'occasione di presentare una strumentazione di cui si è adottato il poliambulatorio città di collecchio che si chiama ecostress con esercizio fisico è uno strumento molto importante per il cardiologo perché abbina quella che è la risorsa fornita dall'imaging all'esame da sforzo che viene comunemente utilizzato sia nella medicina dello sport sia nella cardiologia contemporaneamente mentre l'atleta o comunque diciamo il soggetto pedala sulla su questa bicicletta il letto è basculante quindi si dispone in posizione obliqua consentendo all'operatore al cardiologo di vedere con gli ultrasuoni il cuore e questo ci fornisce la possibilità di confermare o rassicurare il paziente sulla presenza o meno di disturbi della perfusione coronarica